Spero che col 2021 si chiuda anche la necessità del Green Pass. Anno nuovo, vita nuova e quindi spero che i sacrifici richiesti con l'anno nuovo possano essere dimenticati e archiviati. Se ne ha parlato con speranza perché con il terzo vaccino, la terza dose sarà dura togliere il Green Pass. Diciamo che se chiedono agli italiani uno sforzo per arrivare al 90% di vaccinati e gli italiani lo fanno, quando arrivi a quella percentuale non c'è più la necessità di porre limiti. Quindi la speranza è che col 1 gennaio, anno nuovo, vita nuova, che significa libertà di andare a lavorare senza restrizioni o certificati.